Per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati con il livello 3 del tuo speed Aruba utilizzando la firma remota rilasciata da Aruba, prima è necessario acquistare il livello 3 dal self-care speed e associare la firma remota all'identità speed. Per maggiori informazioni a riguardo ti consiglio di consultare il tutorial dedicato. Solo dopo aver attivato e configurato il livello 3 puoi collegarti al sito desiderato, ad esempio agenzia delle entrate, e individuare la pagina di autenticazione tramite speed. Alla voce Entra con speed seleziona Aruba ID. Seleziona il tab speed 3. Il riquadro tempo rimanente in basso a sinistra indica il tempo massimo a disposizione per eseguire l'autenticazione. Se si esaurisce il tempo senza aver concluso l'accesso devi ripetere l'operazione dall'inizio. Seleziona firma remota. Dalla schermata che segue inserisci il nome utente di firma remota e la password. Per visualizzarla in chiaro abilita il checkbox Mostra password. Clicca Entra con speed. Nel campo sottostante inserisci il codice OTP generato con il dispositivo associato alla firma remota. Per visualizzare in chiaro il codice abilita il checkbox Mostra OTP. Dichiara di aver preso visione del documento abilitando il checkbox indicato. Clicca Entra con speed. Il sistema mostra i dati dell'intestatario Aruba ID. Verifica la correttezza dei dati e clicca Autorizza per concludere l'autenticazione. L'accesso è avvenuto correttamente. Qualora sia stata attivata apposita notifica tramite email degli accessi stessi, riceverai comunicazione con oggetto Aruba ID Notifica autenticazione. Per visualizzare in chiaro abilita in chiaro abilita il verbale dell'autenticazione. demtio d'abilita di farbare. Intento direttava attività cheICO